Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo e incredibile video in compagnia di Red. Vi sono appena presentato. Di cosa parliamo oggi? Di fucile a pompa, ma non di fucile a pompa come siamo abituati, ma di fucile a pompa a molla che spingono in maniera eccelsa e che sono probabilmente la miglior opzione che avete quando si parla di fucile a pompa nel mondo del softair. Vi spiegherò perché, vi farò vedere tutti i modelli. Vi do giusto un assaggino facendovi vedere l'S9 della Secutor serie Ferrum. Veramente molto bello, sono dei prodotti veramente ottimi al che me ne sono già portato a casa uno. Sigla! Prima di cominciare a spiegarvi nel particolare quali sono le caratteristiche della serie Ferrum di Secutor, vorrei aprire una piccola parentesi sui fucile a pompa nel mondo del softair. Io personalmente sono sempre stato improntato su il gas, ho sempre scelto fucile a pompa a gas, green gas ovviamente, non tanto CO2 e mi ero innamorato del Tokyo Marui M870 green gas. Lo avete visto in un paio di video, ve l'ho citato in un paio di video e se mi avete incontrato in campo avete visto che spesso lo utilizzavo in ambienti urbani e di CQB. All'interno del mondo del softair però i fucile a pompa si dividono in due categorie. Normalmente ci sono i fucili a molla e ci sono i fucili a gas, quindi fucili a pompa a gas, fucili a pompa a molla ovviamente. Normalmente ho sempre preferito i fucili a gas perché avevano performance nettamente migliori rispetto a quelli a molla in quanto non dobbiamo andare a caricare una molla, quindi non dobbiamo usare la leva d'armamento del fucile per andare a caricare una molla che normalmente è molto dura e soprattutto con i fucili a green gas abbiamo la possibilità di sparare con più efficienza, normalmente il colpo va più o meno alla stessa distanza se non con i marui per esempio molto più lontano di un fucile a molla e soprattutto sono tendenzialmente più precisi. L'unico problema che può avere il gas è che ovviamente se un fucile a molla il suo funzionamento, quello che spinge fuori il proiettile è normalmente dato dal fatto che andiamo a comprimere una molla che poi viene rilasciata, in un fucile a gas invece abbiamo un serbatoio di green gas che andiamo quindi a caricare con una bombola che dopo un numero X di spari si andrà a scaricare, ci toccherà quindi andare a ricaricarlo al volo in campo. Al volo è un parolone in quanto non tutti i fucili a pompa a gas sono identici. Quindi tagliando corto questo mega pippone, perché ho scelto un fucile a pompa? Perché i Secutor sono tra i pochissimi se non gli unici fucili a pompa a molla che hanno le stesse identiche prestazioni del green gas, perlomeno paragonato a un Marui che sono tendenzialmente top di gamma per quanto riguarda fucile a pompa a gas. In sostanza, riassumendo, non solo le prestazioni sono simili, perché sono veramente molto simili, ma soprattutto non abbiamo l'inghippo, che per me è una grossissima rottura di scatole, di dover andare a contare i colpi che spariamo, stare attenti perché a un certo punto il gas andrà a finire, mentre con un fucile a molla noi tutte le volte che carichiamo la molla quello andrà a sparare. Ci dobbiamo preoccupare solamente dei colpi che possono andare a finire a un certo punto e quindi di cambiare la cartuccia. Inoltre, come tutti quelli che hanno usato un'arma a gas nella loro vita sanno, green gas o CO2 freddano la pistola. Freddateli! In poche parole, quando spariamo per tanto tempo col freddo la pistola si ghiaccia. Questo succede in estate, possiamo immaginare in inverno. Vi dico solo che la mia Glock VE in inverno non sparava. Non sparava neanche il primo colpo normalmente, tanto c'era freddo. E anche usando gas molto arrabbiati, nupro al nero, nupro al rosso, nupro al bordeaux, non c'era modo di fargli sparare. Con un pompa invece a molla non abbiamo questi problemi e soprattutto possiamo permetterci di essere molto meno attenti, diciamo, quando lo andiamo a utilizzare perché un sistema a molla è nettamente più semplice rispetto a un sistema a gas che può avere molti più problemi o diciamo che bisogna stare più attenti perché fa prima rompersi. Poche parole, un funzionamento più semplice, performance molto simili, mi ci sono fiondato come un tasso nel miele. Mai capito perché ai tassi piace il miele. Finito questo piccolo pipponcino andiamo ad analizzare i fucili in particolare e capire come funzionano. Questa serie di fucili mi piace veramente tanto. Quello che ho in mano è l'S3, sempre della serie Ferrum. Si chiamano Ferrum perché sono fatti praticamente interamente in metallo. Fatta eccezione per le impugnature che anche nelle versioni reali sono fatte ovviamente in polimero rinforzato, sono toste, non si muovono, sono veramente ben fatti e ovviamente in questo caso il calcio anteriore. Il resto è completamente in metallo, compreso tutto il calcio perché anche questa parte qua è bella metallurgica. Noi lavoriamo sodo e ci divertiamo sodo. Sono veramente ben curati. I loghi tra l'altro posti sul corpo del fucile sono stupendi anche perché Secutor ha un'attenzione particolare per la narrazione, per la storia che mette dietro ai suoi prodotti e soprattutto sono fatti in modo tale che anche per l'operatore siano molto semplici da utilizzare. Questo è il modello quasi più corto. Quello che ho comprato io addirittura non ha neanche il calcio. È veramente quel modello da... Sono molto molto comodi e ovviamente funzionano a molla. Su questi modelli in particolare è necessario mettere un grip come potete vedere perché ci aiuta ad andare a tirare dietro il paramano che poi funziona anche come leva d'armamento. Leva d'armamento ovviamente non è corretta, in realtà è una leva di caricamento se così la possiamo definire, ovvero usando il paramano possiamo andare a caricare la molla e sparare. Il colpo come potete sentire è bello secco e tira veramente a filo joule. Il paramano è M-Lock come potete vedere quindi poi possiamo andarci ad aggiungere tutti gli accessori che ci interessa ed è veramente veramente molto figo soprattutto per le prestazioni che può avere. Personalmente preferisco i modelli più corti perché trovo che i pompa siano veramente molto efficaci all'interno di ambienti di CQB e quindi un fucile troppo lungo poi ci impedisce di andare a girare gli angoli. In questo modo invece siamo veramente molto comodi e possiamo anche sparare veramente molto velocemente. Il calcio è un'ottima giunta perché ci permette quindi di andarci ad allineare e avere un minimo di puntamento perfetto. Un'altra cosa particolare è che io adoro dei fucili Secutor è che ci sono un sacco di attacchi per la cinghia a un punto che sono incluse in confezione. In questo caso è stata messa appunto qui sul calcio ma potete andarla a rimuovere perché è una quick release e montarla dove preferite sul corpo del fucile. Tra l'altro l'attacco è ambidestro quindi a seconda che siate figli del demonio o no potete attaccarla un po' dove vi pare. In tutte le confezioni dei Secutor fatta eccezione per l'S9 che vi ho fatto vedere all'inizio trovate i bossoli. Li trovate anche nell'S9 ma nell'S9 ce ne sono il doppio. tendenzialmente ne trovate tre su tutti i modelli sull'S9 ce ne sono sei perché giustamente avendo la cartuccera di lato per metterci appunto le cartucce ve ne danno di più così il fucile è praticamente già pronto per essere utilizzato così. Adoro il fatto che abbiano inserito tutta una serie di accessori per permettervi di utilizzarlo subito. Vi arriva, non dovete neanche usare il gas avete già una serie di pallini ci potete sparare e potete andare in campo e riuscite a utilizzarlo perfettamente. La durezza della leva di caricamento non è male vi assicuro che è tra le più leggere infatti questa nuova serie Ferrum vanta appunto che il sistema d'armamento è veramente molto leggero è quasi equiparabile alle versioni realistiche le versioni realistiche voleva dire le versioni vere quindi non le repliche. Questo è il fratello più grande della famiglia come potete vedere troviamo già la cartuccera tutta bella riempita tra l'altro queste cartucce della Secutor sono veramente molto fiche si vanno anche a rovinare un pochino meno rispetto alle altre ogni cartuccia tiene 30 colpi per chi se lo stesse chiedendo. Anche questo modello è veramente molto figo sinceramente uno dei più belli se devo essere sincero troviamo il grip angolare anche su questo questo è il modello che preferisco infatti sul mio S1 l'ho messo rosso fiammezzante come una Ferrari ci aiuta tantissimo ed è praticamente essenziale per permetterci di ricaricare molto velocemente addirittura questo lo trovo molto più comodo rispetto a quello Tango Down sostanzialmente che c'era sull'altro modello perché è veramente molto comodo e su questo fucile avendo il paramano un pochino più lungo anche la fase di carica della molla sostanzialmente è veramente agevole, leggera e piacevole su entrambi i modelli troviamo il RIS quindi possiamo poi andare a montare un sistema di puntamento opto elettronico o quello che ci pare e regolazione dell'op-up cosa che normalmente non si trova neanche sui modelli a gas addirittura è questo piccolo buchino qui e tirando avanti o indietro questa levina andiamo ad alzare o abbassare l'op-up se lo tiriamo verso di noi tiriamo sull'op-up se lo tiriamo invece verso la punta della canna lo andiamo ad abbassare ci sono 5 scatti quindi 5 posizioni di op-up quindi quanto l'op-up lo spingiamo giù che possiamo andare a selezionare ed è veramente ottimo in questo caso troviamo appunto un calcio pieno veramente ben fatto e paragonabile a quello del Marui anche se quello del Marui a mio parere è un pochino più solido rispetto a questo qui questa compattezza probabilmente è data dal fatto che all'interno di quello del Marui qui troviamo il tank e quindi avendo più pesantezza è un pochino più pieno in ogni caso sono simili per quanto questo Nissan è un po' sbilanzato non lo so l'avrei preferito un po' più pieno anche qui troviamo tutti i loghi che avevamo sull'altro c'è la sicura su entrambi lo troviamo come in tutti i fucili a pompa dietro al grilletto se andiamo a premere da una parte non vedremo il rosso se andiamo a premere dall'altra troviamo il rosso che significa pericolo veramente ben fatti questa serie di fucili ragazzi è veramente veramente bella e sinceramente mi sono innamorato appena sono arrivati al che li ho portati e l'ho portato il mio alla Far Cry e non mi ha deluso proprio per niente parliamo adesso di un problema sostanziale di un vantaggio che fino a qualche tempo fa continuavano ad avere i fucili a gas rispetto a quelli a molla la rosata di pallini come ben sapete la maggior parte dei fucili a molla è stretta però posso andare avanti? sì no sì posso andare avanti grazie apprezzato ovvero normalmente i fucili a molla non hanno tre canne come i fucili a pompa a gas questo portava a avere un fucile a molla con la forma di un pompa che però sparava un pallino dritto e quindi perdeva quell'idea di fucile a pompa motivo per cui ho comprato l'M870 Marui perché aveva tre canne potevate sparare fino a sei colpi e vedevate proprio partire una rosata di pallini veramente veramente molto ficca che quindi vi dava l'idea di star sparando davvero con un fucile a pompa questo problema è stato ovviato finalmente sempre dalla Sector ovviamente anche perché vi sto recensendo quella questi fucili a molla non hanno tre canne ma sparano comunque tre colpi insieme hanno una canna unica che fa uscire tre pallini insieme la rosata viene poi aperta man mano che passano dei metri da quando escono dalla canna e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso perché non sarà sicuramente una rosata di sei pallini ma possiamo spararne molti di più senza dover caricare la bombola hanno una precisione ottima aprono un pochino di più rispetto al Marui se devo essere sincero quindi anche se sicuramente quindi anche su una rosata di tre pallini uguali quelli della Sector vanno un pochino più lontano e si aprono giusto prima di arrivare al bersaglio cosa che mi è piaciuta veramente tanto e in generale per me danno la melabra ai Marui se devo essere sincero cioè ottimo fucile non dico di no ma hanno un sistema che veramente mi fa godere tantissimo perché abbiamo la possibilità veramente di divertirci come dei mati e non dover tenere tutte quelle accortezze che avremmo normalmente con un fucile a gas per giustizia vi dico che ho avuto modo di provare e usare anche per tanto tempo un altro fucile Marui questo giro a molla era un M3 Shorty con tre canne quindi un fucile a molla con tre canne l'eccezione che conferma la regola e per quanto mi ci sia divertito non aveva le stesse features e non aveva sicuramente le stesse caratteristiche partendo dai materiali che purtroppo Marui si ostina a fare della roba poco realistica per quanto performante quindi molto plasticone ma soprattutto una leva d'armamento durissima una difficoltà nell'utilizzo pochissima possibilità di personalizzazione perché mancavano completamente la maggior parte dei rail mancava completamente la possibilità di customizzare il paramano c'erano un sacco di problemi con quel fucile e non mi aveva impressionato al che è rimasto su una mensola a prendere polvere quando ho preso in mano finalmente uno dei ferro mi si è aperto un mondo questa cosa ve l'ho messa così non mi venite a dire eh però hai provato solo quelli a gas ci sono altri fucile a molla no li ho provati entrambi e comunque Ferrum è uscito a testa alta dall'arena bentornati a questo Warrage era un po' che non se ne faceva uno questo Warrage lo inizia con questo fucile che occhio allo spoiler non è un Secutor questo qua è il mio Marui M870 Tactical customizzato a mina a cui manca un rompifiamma che arriverà e perché inizio da questo fucile Warrage? perché eeeh quindi partiamo quello che ho in mano è la versione Olive dell'S3 quindi di quello di media lunghezza stesse identiche caratteristiche cambia solo il colore del corpo allora io ho avuto modo di usarne a molla mi hanno sempre fatto schifissimo per il feedback in mano e di sparo cioè tu vai a caricare e senti tutto uno sfarfallio di molle di riverberi dentro al corpo che fanno schifo Secutor questo problema l'ha risolto ha provato a buttarsi sul GBB con le vecchie serie Velites facevano schifo facevano un tot di problemi l'ultima forse si salvava ma quelle precedenti inutilizzabili la nuova serie Ferrum a molla quindi la S è davvero 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 sbalorditiva l'unico lato negativo che riesco a trovare ma lo vedrete poi nella prova di tiro sarà un po' la rosata perché abituato all'M870 della Marui che ha una rosata grossa quanto la mia faccia a 15-18 metri lui ce l'ha a 10 sì la canna è notevolmente più corta sì è notevolmente più maneggevole avrei preferito magari una canna un po' più di precisione come invece il Marui A nonostante questo a tenere in mano questi Segutor mi pento ogni tanto di avere il Marui e tutti i soldi spesi per un Marui nonostante ripeto sia il top di gamma in campo sono spettacolari quindi un range inutile perché purtroppo sono fatti bene sono fatti davvero davvero bene l'op-up è stata una cosa pazzesca cioè venendo da Marui che l'op-up non so neanche che cazzo sia su un pompa cioè c'è ma è fisso il loro double l'op-up poterlo regolare quindi poter scegliere tra le grammature di pallini in base alle esigenze è una novità pazzesca e sono tutti customizzabili molti lo sono già di serie ma già poter mettere un calcio da M4 su questo tubo che è standard poter metterci un mirino poter aver già la cartuccera poter mettere il laser e torcia direttamente sull'impugnatura è qualcosa di fenomenale brava Segutor sei riuscito a risollevarti e a riprenderti il mercato dei fucili a pompa bene siamo arrivati finalmente alla prova di tiro vado a sparare con il bossolo andiamo a prendere il fucile che è già pronto per sparare perché oltre a caricare i bossoli non vi serve fare nient'altro andiamo a mettere dentro vado a sparare un po' di colpi parto mirando al pet e poi mi muovo sulla testa bene quindi come sono andati i colpi ottimi sono partito mirando un pochino basso quindi tenendomi abbastanza basso i pallini che abbiamo usato erano degli 0,25 quindi già più pesanti rispetto a quello che dovreste utilizzare distanza 15 metri ho la bacchetta che è una canna di una pistola credo comunque non importa sono andati tutti in sagoma 5 punti leggermente basso ho corretto il tiro e si è scaldato un secondo lo pop e sono tornati a colpire qui più in alto ho sparato un ultimo colpo in sagoma e ho preso direttamente tutta questa parte qui compleso compleso compreso un bel colpo sul cappello come avete visto tira veramente molto bene tenendo conto che è un pompa tenendo conto che apre tenendo conto che non ci ho praticamente mai sparato perché il mio addirittura non ha il calcio performance veramente ottime tende ad aprire il giusto come potete vedere dalla rosata troviamo 4 colpi qui abbastanza aperti qui abbastanza aperti qui è veramente ottimo se devo essere sincero e come performance performa veramente tanto bene se siete interessati a vedermi utilizzare il mio S1 Ferrum in campo scrivetelo qui sotto nei commenti che sarò pronto a portarvi qualcosa di divertente per quelli che se lo stavano chiedendo la Far Cry il video della Far Cry dove utilizzo questo fucile uscirà è un video veramente grosso su cui devo lavorare tanto al momento non ho avuto troppo tempo di dedicarmi a fare una bella cosa su quello lì perché tanti motivi tra cui che mi sto laureando so che probabilmente me ne frega niente però così un po' di contesto sul buon rendone io vi ringrazio vi ricordo che in descrizione trovate anche i link dell'Instagram del Monopoly Software Shop e mio personale dove ovviamente condividiamo tutte le robe con il Monopoly quindi veniteci a seguire entrambi perché pubblichiamo una marea di contenuto tra cui le mie foto sexy in bikini e anche le foto di War in bikini che adesso che l'ho detto dovrà pubblicare qui da Red effettivamente tutto noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video e stay hungry